E adesso torniamo in Valdarno per l'ultimo saluto ad un sacerdote molto amato. Ultimo saluto oggi pomeriggio da parte dell'intera comunità terranomese a Don Donato Bucchicchio, il parroco simbolo della città. Alla chiesa di Santa Maria Nuova, scelta per l'esequio e a partire dalle 15.30, sono arrivati molti tra autorità e semplici cittadini per omaggiare colui che ha rappresentato un punto di ferimento per molte generazioni e non solo a Terra Nuova, avendo peraltro svolto la propria mansione anche a San Giovanni in Oltrarno per molti anni. Fin dalle 14.90 minuti prima delle campane a lutto, la chiesa era già stracolma. Il piazzale ha accolto comunque il continuo arrivo di chi nel silenzio solenne aveva un singolo ricordo personale del parroco. I suoi ragazzi erano presenti in divisa sportiva, ma anche chi il ragazzo magari non lo è più e ha dato sempre una mano alle iniziative in parrocchia, ha messo i propri abiti dal lavoro. I sacerdoti delle due diocesi a fianco delle autorità civili, con le commosse rimembranze della quotidianità dunque perdondonato, un paese fermo per il lutto cittadino, pressoché impossibile trovare oggi posto per l'auto in centro, a testimonianza ulteriore che la dimostrazione di chi ci ha lasciato dopo una breve malattia a Roma era certamente relativa al valdarno tutto. Grazie. Grazie. Grazie.